Oggi siamo in una nuova mappa dei Lucky Block bellissimi e qua abbiamo il mio amico Gabriel e il mio amico Angelo, ciao! Eh eh eh, ciao! Salve! Mi stai rompendo i timpani, non urlare mai più così, scusatelo eh! Adesso forza iniziamo amici! Iniziamo, iniziamo! Chiaramente... Iniziamo! Oddio! No, silenzio tutti, silenzio tutti, per carità noi iniziamo a fare cose strane! Allora... Dove è questo? Mannaggia te Gabriel, hai rotto di nuovo tutto! Lo so! Come le palle! La prima! Eh, lo so, lo so! Che schifo! Eh, che schifo! E poi scusa, ma io devo andare avanti 1 a 1? Perché io ne devo di più, quindi sì, 1 a 1! Allora sì, 1 a 1, sì, mi ha ucciso il coniglio però! Scarso, scarso! Vai a quel paese, tu e il tuo scarso! Ma comunque io ho un coniglio qua, che non lo so, mi vuole uccidere! Che schifo! No, veramente un mannaro? Un coniglio mannaro? Ho trovato una spasa! La Lucky Sword, ho trovato! Scusa, scusa, Gabri, interessa qualcuno se hai trovato la Lucky Sword? No, 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 però è bellissima, credo! No, fai cagare! No! Eh no, dai, siamo tranquilli, siamo bravi, forza! Allora, ragazzi, dovete sapere che vogliamo provare questa nuova serie bellissima perché... No! No, c'è il maione che mi sta inseguendo! Che santa Maria! Mi sa che c'è un'altra TNT, sì! No, ragazzi! Aiuto! Allora, stiamo facendo troppo casino però, non si capisce niente per la carità Gesualda! No, esatto, troppo! La carità Gesualda, comunque, è il top! Ho trovato un Lucky Bloccone! Guarda, vediamo cosa c'è qua! Ok, facciamo così! Gabri, non me ne può fregare di me, non se tu trovi la TNT, ok? No, la tua dicevo! Eh, grazie, non lo vedo! Mi devi urlare le orecchie un'altra TNT! Eh, raga, aiuto! Sono morto! Eh, sei morto! Ma come? Wow, fassino! Nel senso, non tengo blocchi, non tengo blocchi, mo? No tenere blocchi, allora tu poter... Mannaggia te, Gabri! Puoi usare la creativa... È pieno di TNT! Puoi usare la creativa solo per prenderti dei blocchi, però... No, 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 io sono un survivalista! Mamma mia, sei un super pro, allora! Eh? Io prenderò... Ragazzi, scusate se questo video andrà a degenerare, ma è normale! Ma vai a quel... Ma dai, ma mi ha ammazzato quello schifoso! Sono morto pure io! No, pazz... Ah, io non sono morto! Eh, sì! Allora, stiamo cercando... Allora, fermi tutti! Stiamo facendo un casino, non va bene! Poi qua, ragazzi, pazzurdo! Pazzurdo, proprio... Sono un co... Ragazzi, sono scemo, sapete perché? Perché io non ho tolto la videocamera grande, quindi avete visto per metà del video, finora, un po' grossa la mia faccia, ma vi chiedo scusa, vabbè, tanto non è che c'è molto da vedere, c'è solo la linea retta qua, praticamente, quindi... Eh, grossolano! Sì, grossolano! Però, perché stai dicendo così a caso tu, scusa? Dimmi un po'? Non sto dicendo così a caso! No, 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 io so quelle cose che dici, parlo! Ma porca puzzarda! Eh... Dovete capire questa cosa, allora, adesso cerchiamo di non morire! È una sfida fra me e la mappa! Certo che se però mi vengono le tnt in testa è un po' difficile! Angelo, non fare versi, però, per favore! Fai come Gabri, che sta zitto e non fa versi! Grazie! Schifoso! Puzzardo di... Eh! Sì! Eh! Eh! Zitto! Allora, dicevamo, ragazzi, io e voi, prima che qualcuno ci interrompesse! Questa mappa è molto difficile, potremmo morire tante volte, ma ci sarà... Eh, mi dispiace molto che sei morto! Allora, Gabri... Oh, ma che vuoi? Sono morto! Mannaggia, a voi e alle vostre chiappettone! Gabri! Dimmi, dimmi, dimmi! Adesso, dimmi un po' che cosa sta succedendo da te! Eh! Sempre sfortunato! Questi lucky block! E quindi cosa vorresti che io facessi per... Eh, non lo so, niente! Ma perché ho sentito un fulmine e è morto qualcuno? No, io non sono morto! Però potete, potete... Allora, quando io vi faccio una domanda, potete rispondere in due secondi? Eh, scusaci, scusaci! E soprattutto, scusazioni e puzzardani! Eh, soprattutto, non parlate... Non lo faccio più! Soprattutto non parlate addosso, e soprattutto state attenti a quello che dico! Schifosi, pazzurdi! Va bene, va bene! Puzzazioni! Ok, perfetto! Sto pazzurdo! Pazzurdo! Basta! Eh! No, sai, ti picchio! Ti picchio, vengo là e ti picchio! Ti picchio, sai, se ridi così! Puzzardina! Cosa? Puzzardina! Esatto! Allora, però no, allora, dobbiamo fare un piccolo taglio, ragazzi, perché qua non va bene, ci siamo... C'è troppo... Troppo! Ah, i pesci! All'un giorno ci prova con i pescioni! I pescioni, pazzurdo! Eh, esatto! Allora, ragazzi, siamo qua che stiamo cercando di intrattenerci qua con i pescioni che... Eh, però, scusate, non... Io sono arrivato all'elitra, ma non ci sono elitra qua, perché non ci sono elitra? Io pure all'elitra! Io ci sono... Eh, non ci sono qua, perché non ci sono? Scusate, schifo, derrimi, perché non ci danno l'elitra? Perché sono puzzardi qua? Allora, dobbiamo immediatamente far qualcosa, ovvero questa cosa sarà ghibbarci dalla creativa, perché ragazzi non ci danno... Vai, vai, ghibba, ghibba! Ci siamo, siete pronti, guiz! Vai, vai, fassurdo! 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 Ok, tranquilli che ce l'abbiamo fatta, però, ce l'abbiamo fatta! Allora, abbiamo preso anche i fireworks, non so se andavano presi, ma non me ne può fregare di meno, va... Eh, 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 va panfufolo, va panfufolo a tutti quelli che hanno fatto questa mappa, Perché questa mappa è molto bella, sì, più o meno E quindi... Che è puzzona? È puzzona, davvero, Angelo! Dici, è puzzona, quante puzzona sta mappona! Ma c'è... Ho sentito un'esplosione! È esploso tutto! Eh, ma va! Angelo, shh, 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 queste cose però non si dicono, eh! No, non si dicono, non si dicono! No, no, devi censurare, devi censurare, devi censurare! Bravo, censuralo mentalmente, cioè no, veramente lo devi censurare, vabbè, shh! No, la lava, la lava, la lava! Pazzurdo, pazzurdo! Magari, ma che ti prende adesso? La lava, la lava, ma muori! C'era tanta lava! Eh, muori, fai film, ma non lo so, ma muori, silenzio, porca puzzardona! Va bene, va bene! Perfetto! No, non dicevo in questo... Mamma mia, questo dove è su? Ehi, no, dai, aspetta, poverino, dai, mister! Ma ci hai? Ma che... È tutto il posto? Oh, come ti permetti tu? Ma ragazzi, ma sentite come parcia, come mi tratta? Adesso, dobbiamo immediatamente... Ah, ma io devo mettere una bella musica però! Dicevo, dobbiamo dargli una punizione, rifilargliela! Assolutamente, perché non è possibile! Che cosa ho fatto? Hai fatto che hai osato parlarmi in malo modo! Io non mi permetterei mai! Sono morto? Può darsi? No, bisogna... Cosa? Angelo, ma sei scemo? No! Veramente, ragazzi, ma che cos'ha questo qua, secondo voi? Secondo me è scemo, semplicemente! Può darsi, eh! Sì, sì, sì! Sì, sì! Ma sentite che devi... Allora... Angelo, adesso ci racconti una cosa relativa, chiaramente, a queste cose che stiamo facendo, quindi ai Lucky Block. Tua! Vai! Pronto! Vai! Ah-ha! Eh! Ah-ha! Sì! E che devo dire? Non so! Dici... Dica... Quello che... Cosa stai facendo in questo momento, tu? Sono morto! Ecco cosa ho fatto! Ah, e per quale motivo sei morto? Dici, raccontaci! Eh, la vita mi odia! Che devo fare? No, ma non dire questo... Allora! No, ehi! Non dire questo... Deve essere puzzardo, capito? Deve essere puzzardo! Sì, più puzzardo, più... Wow, wow, wow! Più puzzardo! Oh, oh! Esatto! Puzzardo! Sei felice anche, no? Ovviamente, della tua vita, chiaramente. Sarai felice, no? No! No, no, raga, la mia vita è perfetta. Esatto, è bellissima. Mamma mia! Vabbè, dai, allora... Si scherza, chiaramente, ragazzi. Comunque, qua, comunque... Io ho finito la mappa. Oh, go! Eh, sì, ho premuto il pulsante. Però non mi fa finire. Questa mappa è fatta molto bene, devo dire. Però, ragazzi, visto che abbiamo finito la mappa, io direi di fare un'ultima cosa. Mode creative, perfetto. E ovviamente adesso devo fare una cosa di questo tipo, perché... Dobbiamo andare a dare fastidio ad uno di questi. Se un... Io devo fastidio ad un altro, però l'altro chiaramente deve stare in silenzio, no? Giustamente. Come è normale che succeda, quindi... Ah, ah. Per dire... No, Angelo, stai zitto, non fare aha, non mi permettere mai più. Qua si devono dire solo cose di... Senso compiuto, assolutamente. Ok, ok. Mai più cose... Mi perdoni, padrone, mi perdoni. Ok, perfetto. Flint and Steel dovevo prendere, perché se no sono un po' sciocchino, scioccherello. Gabri, allora... Tu puoi parlare, giusto? No, mi sa di no. Mi sa che c'è troppo casino in casa sua. Allora scherzavo e ritorniamo dall'angelo. No, io no, ora posso, ora posso. Perfetto, sei sicuro, Gabri? Ok, perfetto, ora puoi. Sì, sì, sì. Allora, dimmi un po' come sta procedendo qua. No, no, male, male, male. No, allora devi morire, devi morire. Scusa. No, sono morto da solo. Allora, primo, no, non vale assolutamente. L'elitra valeva non solo per il pezzo. Va bene, va bene. Tu fai schifo. No, allora, dobbiamo soggiogarlo in una prigione adesso. No, Gabri, hai perso tutto. Ha vinto anche. Il secondo è angelo perché ha usato... Tu stavi usando l'elitra, ma come caspita ti viene in mente? Oh! Come ti viene in mente? Che bello, che bello quando muore la persona che io odio con tutta la mia... No, scherzo, gli voglio bene un mio amico, chiaramente. Non prendete le cose che diciamo seriamente, chiaramente, ragazzi. E per carità, perché non odiamo nessuno qua. A parte angelo. Vediamo un attimo. No, dai. No, ti prego, ti prego. Ti prego. Ti prego. Oh, no, 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 dai, dai. Ti scongiuro, ti scongiuro. Ti scongiuro. Ti scongiuro. Ti distruggo male. Vabbè, dai, però ti hai aiutato a... Ti hai aiutato a distruggere i lucky block su. Dai, eh, perché... Eh, gli stoi, gli pazzurdo. Eh, pazzurdo. Dai, beh, cerchiamo di fare... Pazzurdo. Comunque, basta, ragazzi. Mi sono rotto le palle. Questo video è finito perché... Non perché mi sono rotto le palle. Ma come? Eh, perché io ho finito. No, dai, aspetta, sto arrivando alla fine. Aspetta. Io devo ancora arrivare alla fine. Arriva, ma... Arriva. Dai, dai, dai. Sai zitto un po'. E comunque arrivi senza... Senza terminare il video, perché ormai è finito il video. Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di queste lucky block. Se le vedete... Se le volete rivedere, chiaramente io ve le porto di nuovo. E gne, gne, gne. E ci vediamo al prossimo video, gnoi. E iscrivetevi al canale e lasciatevi sapere se quelle cose belle. Ciao, ciao. Ciao, ciao. È deficiente, proprio.